E torniamo in studio per accogliere qui in studio virtualmente collegato il nostro Filippo Thierry. Ciao Filippo, buonasera. Meteorologo. Buonasera a te, buonasera a tutti. Ciao, ben trovato. Allora, che situazione c'è sui cieli italiani? Qui a Roma è diventato molto brutto, molto instabile, anzi più correttamente il tempo, nelle ultime ore. Sì, esattamente, perché quel piccolo ma ostinato nocciolo di aria fredda instabile in quota è arrivato puntuale all'appuntamento sui cieli italiani. Già nella serata di ieri è iniziato a dar luogo ai primi rovesci temporali su parte della pianura padana e poi, come la tempistica delineata, diciamo, ieri dalle previsioni, durante la notte ha guadagnato terreno verso le regioni centrali della penisola. Questa mattina, ma anche in queste ore, qualche temporale residuo, ma localmente forte, sulla pianura padana, in questo momento soprattutto a cavallo tra l'Emilia e il Mantovano, ma è soprattutto appunto sul centro della nostra penisola che l'attività temporalesca, nella giornata di oggi, è andata strutturandosi in maniera particolarmente coerente e diffusa. In queste ultime ore i settori centro-settentrionali di Toscana, Umbria e Marche stanno uscendo, diciamo, dal raggio d'azione di questa instabilità, mentre i settori meridionali di queste tre regioni, insieme a Lazio, Abruzzo, Molise e adesso anche la Campagna, sono ancora dentro. Questa attività temporalesca a carattere sparso e localmente, direi, anche forte. fenomeni più locali, legati più al ciclo diurno sul resto delle regioni meridionali, dove invece, come vedremo, sarà la giornata di domani quella che sarà caratterizzata appunto dall'arrivo di questo nucleo di aria, di aria instabile. Hai portato anche qualche immagine, vero? Sì, possiamo andare. Oggi vi porto un po' a spasso tra i castelli romani, proprio durante il clou, diciamo, di questo evento temporalesco. La prima wecca, ma sono immagini tutte riprese intorno alle 14 di oggi, la prima wecca ci mostra il comune di Monte Compatri, il borgo medievale di Monte Compatri nei castelli romani, proprio nel momento in cui inizia a essere interessato da uno scroscio, da un forte temporale che nell'ora precedente aveva interessato proprio la capitale, era partito in tarda mattinata a nord di Roma e poi appunto ha attraversato rapidamente con scrosci anche forti, come dicevi, proprio l'area urbana e poi appunto si è spostato con l'insieme di celle temporalesche collegato verso est su destra, andando a interessare proprio i castelli romani. Questa immagine è molto emblematica per rendere conto proprio di quanto sia brusco, immediato, repentino e rapido il peggioramento associato a una struttura temporalesca, perché vedete sulla destra dell'immagine ancora si vede il sole che splende più in basso, mentre sulla sinistra siamo già dentro lo scroscio temporalesco, la stessa wecca, ma un paio di minuti dopo era completamente avvolta dalla nube, dal comune Nembo, si vedeva soltanto grigio. È una wecca di proprietà del comune di Monte Compatri, gestita dall'associazione Edmondo Bernacca, è ospitata dal sito Meteo Castelli, che ringrazio. La successiva immagine ci porta ad Ariccia, gestita dal sito Meteo Riccia, e nello stesso momento ci vede il centro storico della cittadina famosa per la porchetta, avvolto completamente anch'esso dalle nubi temporalesche che stavano dando luogo appunto a questi rovesci di pioggia. La wecca successiva, gestita dal sito Meteo Cecchina, è da Genzano Romano, inquadra verso il litorale, sulla linea dell'orizzonte c'è il litorale romano, e vedete che anche qui ci sono rovesci sull'estremità a sinistra, si vede uno scroscio di pioggia che si abbatte dalla base del comune Nembo. Insieme a questo nucleo è arrivata anche dell'aria più fresca, che ha fatto abbassare come previsto le temperature, tra l'altro anche i temporali stessi portano dell'aria fredda localmente ad abbattersi ulteriormente verso il basso e quindi su alcune zone dell'Appennino Tosco-Emiliano si è vista comparire la neve verso i 1600 metri di quota, in un contesto per il resto di quota neve sull'Appennino intorno ai 2000 metri. Interessante questa perturbazione, vediamo che tempo farà domani Filippo intanto. Come vi anticipavo, nella giornata di sabato di domani la parte più attiva di questo nucleo instabile si sposta verso le nostre regioni meridionali. Il Lazio resterà interessato nelle province più meridionali, dai Castelli Romani al Pontino a Frusinate, anche se sulle province di Roma e di Rieti ci potrà essere ancora qualche residuo e breve tratto di instabilità. Ma dicevamo, sono soprattutto le regioni del sud che sono interessate, dallo stesso tipo di fenomenologia che oggi vediamo sul centro della penisola, con piogge sparse ma soprattutto temporali localmente anche di forte intensità. Sull'arco alpino e prealpino abbiamo più dell'instabilità legata al ciclo diurno, mentre sulla pianura padana il tempo è asciutto e generalmente soleggiato, anche se verso sera su Piemonte e Lombardia Emilia inizia ad arrivare della numerosità che poi ritroveremo nella prima parte della giornata di domenica. Le temperature sono in rialzo rispetto al calo che c'è stato nella giornata di oggi sul nord ovest, sulla Minna Romagna e su Toscana, Lazio e Sardegna. Torneranno su queste regioni a registrarsi punte fino a 25, 26, 27 gradi soprattutto sulla pianura padana. Sul resto d'Italia sono stazionarie tranne un calo al meridione dove oggi ancora i valori non erano scesi. E domenica? La giornata domenicale vede una situazione meno instabile dal punto di vista della perturbazione che nel frattempo avrà esaurito i suoi effetti più importanti, però c'è ancora dell'instabilità legata soprattutto al ciclo diurno su quelle zone del centro nord. Al meridione invece sarà ancora in qualche modo legata allo strascico di quella perturbazione. Sono fenomeni al momento previsti meno forti rispetto a quelli di oggi e di domani, ma comunque potranno ancora dare luogo a fenomeni anche temporaleschi, quindi anche a degli acquazzoni, a degli scrosci. Le temperature si vanno rialzando al meridione. Abbiamo quindi una situazione comunque ancora di stampo primaverile. La buona notizia è che anche nei giorni successivi, per quanto ci sarà un nuovo rialzo delle temperature con valori soprattutto al centro nord in rialzo verso i 25-28 gradi, comunque non sono previste ondate di caldo, cosa che insomma visti i 40 gradi registrati su alcune zone del meridione durante il mese di maggio è comunque una buona notizia. Il tempo nel ponte del 2 giugno, quindi sulla giornata del lunedì e sulla martedì della festa della Repubblica, dovrebbe andare stabilizzando. Sì, ci saranno ancora dei residui, episodio di stabilità sulla Calabria lunedì, sul resto anche del meridione martedì, ma a carattere piuttosto locale e sporadico. Grazie Filippo, allora ci aggiorniamo alla prossima settimana. Intanto grazie anche per quel breve accenno anche per il ponte del 2 giugno. Grazie ancora al nostro meteorologo Filippo Thierry per la rubrica di oggi.